A Livorno serve un provvedimento straordinario del governo per aiutare le famiglie e le imprese messe in ginocchio dal nubifragio, lo ha detto il presidente della regione toscana, Enrico Rossi, dopo il nuovo sopralluogo nelle zone più colpite dall'alluvione, causato dall'esondazione dei torrenti, Uggione, Chioma, Ardenza e Rio Maggiore, il cui bilancio è salito a otto morti dopo il ritrovamento del corpo dell'ultimo disperso, un uomo di 67 anni. L'alluvione che ha allagato case scantinate e danneggiato gravemente la zona industriale, ha detto Rossi dopo un vertice nella sede della protezione civile, ha colpito una città già messa in ginocchio dalla crisi e la buona volontà dei livornesi che si sono messi subito al lavoro da sola non basta. Io qui sono a chiedere un'attenzione speciale straordinaria, analoga a quella che il paese ha dimostrato di avere, ad esempio nel caso nel 2010 in Veneto, nel 2015 per l'alluvione del Veneto, nel 2015 per il terremoto dell'Emilia, un provvedimento che vada a dare contributi sostanziosi anche dal punto di vista finanziario, alle famiglie che ne hanno bisogno e alle imprese per risollevarsi. Quello che resta dopo il passaggio del nubifragio è fatto di cumuli di macerie, fango e pezzi di vite ammassate in mezzo alla strada che Rossi ha voluto vedere nel corso del sopralluogo lungo il torrente Ardenza e poi nella zona di Montenero. Quando ho visto quello che è accaduto sul rio Ardenza, la cosa veramente fa capire come possono accadere eventi e episodi dove noi uomini possiamo trovarsi ad essere veramente piccoli. Nell'immediato circa 2 milioni e 200 mila euro a disposizione saranno utilizzati per i primi interventi sull'ugione, mentre si aspetta che la dichiarazione dello stato di emergenza firmato dalla regione sia adottata a livello nazionale in modo da permettere di utilizzare i primi fondi per gli interventi di massima urgenza nelle zone più colpite.